Sì, oggi la disabilità e il lavoro, esattamente qual è l'argomento di cui avete parlato? Sì, disabilità e il lavoro perché la mia è un'associazione di volontariato che si occupa di bambini e di famiglie con disabilità e fra genitori abbiamo ritenuto opportuno incominciare un percorso di presa di coscienza, insomma abbiamo capito che è necessario affrontare sin da subito il tema dell'autonomia, dell'indipendenza economica e dell'inclusione lavorativa perché intanto è importante affrontare questo tema proprio per la nostra città, per il nostro territorio ma anche perché i nostri figli diventeranno grandi e insomma siamo ancora in tempo per affrontare queste tematiche. Oggi abbiamo, diciamo come ho detto prima, abbiamo messo il primo mattoncino su questo percorso. Purtroppo la normativa è eccellente ma non ci supporta un'attuazione concreta di questa normativa quindi molte volte noi privati, le famiglie, le associazioni sono costrette a darsi da fare e quindi a dover intervenire concretamente per realizzare l'inclusione lavorativa dei nostri figli. Qual è il primo passo per inserire queste persone diversamente abili nel mondo del lavoro, nelle imprese? Noi stavamo appunto dicendo con la dottoressa Siska prima del seminario ma ora parlavo proprio con alcuni genitori di persone affetti di disabilità che dobbiamo cercare di capire dove è il problema perché la norma è perfetta però effettivamente forse a livello burocratico e amministrativo c'è un intoppo. I signori con cui stavo parlando prima mi dicevano che effettivamente non riescono ad avere delle risposte dagli enti preposti. Sicuramente il primo passo dopo questo seminario con la dottoressa Siska e l'associazione diversi maiguali sarà proprio quella di fare una ricerca innanzitutto agli enti, quindi ufficio di collocamento e direzione provinciale del lavoro per capire come funziona e come si dovrebbe evolvere la domanda e poi sulle aziende per capire se sono edotte realmente di quelle che sono le opportunità nel momento in cui si inserisce un disabile al lavoro.